Capitolo 8 La nostra eroina scopre qualcosa su suo fratello, ma non ci crede. Il nostro eroe scopre un segreto su Miss Watson, ma non gli interessa, ed entrambi scoprono qualcosa su loro stessi, ma non se ne rendono conto. Un'ora dopo, Gregory ci stava ancora congratulando con se stesso per la magistrale combinazione di strategia e tempismo che era sfociata in quella passeggiata con Miss Watson. Erano stati bene, e Lord Fenceworth, beh, forse era stato bene anche lui, ma con sua sorella e non in compagnia della deliziosa Ermione Watson. La vittoria era davvero dolce. Come promesso, Gregory l'aveva accompagnata in una passeggiata nei giardini di Aubriol, e per lo stupore di entrambi si era ricordato i nomi di sei piante diverse, inclusa la Speronella, anche se per quella doveva ringraziare Lady Lucinda. Tuttavia, giusto per rendere onore al merito, le altre cinque erano Rosa, Margherita, Peonia, Giacinto ed Erba. Tutto sommato riteneva di essersela cavata bene. I dettagli non erano mai stati il suo forte, e a quel punto era soltanto un gioco. Miss Watson sembrava apprezzare di più la sua compagnia. Niente sospiri e battiti di ciglia, però il velo di cortese disinteresse era caduto, ed era perfino riuscito a farla ridere due volte. Ermione, invece, non l'aveva fatto ridere, ma forse non ci aveva nemmeno provato. Comunque, aveva di certo sorriso, e in più di un'occasione. Era un'ottima cosa, davvero. Era gradevole aver recuperato un po' di buon umore. Non si sentiva più oppresso, come se avesse preso un pugno nello stomaco, e stava riscoprendo il piacere di respirare liberamente. Un'impresa che gli era risultata difficile negli ultimi giorni, ogni volta che guardava la nuca di Miss Watson. Corrugò la fronte, firmandosi durante la sua solitaria passeggiata verso il laghetto. Era una reazione davvero strana. Eppure doveva aver visto la sua nuca quella mattina. Non si era forse messa a correre davanti a lui per annusare un fiore? Mmm, forse no. Non lo ricordava con certezza. Buongiorno, Mr. Bridgerton. Gregory si voltò, sorpreso di vedere Lady Lucinda seduta tutta sola su una panchina lì vicino. Aveva sempre pensato che fosse una posizione strana per una panchina, rivolta verso un gruppetto di alberi. Forse però lo scopo era proprio quello. Voltare la schiena alla casa e ai suoi numerosi abitanti. Sua sorella Francesca aveva spesso detto che dopo un paio di giorni con l'intera famiglia Bridgerton, gli alberi potevano rappresentare un'ottima compagnia. Lady Lucinda lo salutò con un sorriso tirato e Gregory ebbe la sensazione che fosse diversa dal solito. Aveva gli occhi tristi e la schiena non perfettamente dritta. «Sembra vulnerabile», pensò inaspettatamente. Suo fratello doveva averle portato brutte notizie. «Avete un'espressione seria», le disse avvicinandosi educatamente. «Posso unirmi a voi?» Lucy annui, rivolgendogli un sorriso appena accennato. Si mise dunque a sedere accanto a lei. «Avete avuto l'opportunità di parlare con vostro fratello?» Annui di nuovo. «Mi ha portato alcune notizie di famiglia. Cose non troppo importanti». Gregory la osservò inclinando la testa di lato. Stava chiaramente mentendo, ma non insistette. Se avesse voluto parlarne lo avrebbe fatto. E comunque non erano affari suoi. Però era curioso. «Si sta abbastanza bene qui», gli disse fissando un punto in lontananza. Un'affermazione stranamente insulsa per lei. «Già, il laghetto è appena dietro quegli alberi. Vengo spesso da queste parti quando voglio pensare». Lei si voltò di scatto. «Davvero? Perché siete così sorpresa?» «Io... non so», disse scrollando le spalle. «Forse perché non mi sembrate il tipo». «Non vi sembro un tipo in grado di pensare?» «Ma no», rispose stizzita. «Intendevo che non sembrate il tipo che ha bisogno di allontanarsi per farlo». «Perdonate la mia presunzione, ma nemmeno voi sembrate il tipo». Lei rifletté per un istante. «Infatti, la conversazione con vostro fratello deve essere stata impegnativa», osservò. Lucy, sorpresa, fece un cenno di assenso, ma non approfondì. Altro fatto che non sembrava da lei. «Quali pensieri vi hanno spinto a venire fin qui?» Gli domandò. Poi, senza lasciargli il tempo di rispondere, aggiunse «Ermione, suppongo». Non aveva senso negarlo. «Vostro fratello è innamorato di lei». Questo parve risvegliarla. «Richard, non dite sciocchezze!» Gregory la fissò incredulo. «È impossibile che non lo abbiate capito». «Non potete credere una cosa simile. Per l'amor del cielo, Ermione lo considera un fratello». «Questo può anche essere vero, ma lui non la pensa così». «Mr. » Gregory sollevò una mano per interromperla. «Mia cara Lady Lucinda, vi garantisco che ho visto ben più innamorati pazzi di quanti voi». Lucy scoppiò letteralmente a ridere. «Mr. Bridgerton», rispose appena fu in grado di farlo. «Ho passato gli ultimi tre anni costantemente in compagnia di Ermione Watson. Ermione Watson!» ripetè nel caso gli fosse sfuggito il senso. «Fidatevi se vi dico che nessuno ha visto più innamorati pazzi di me». Per un istante Gregory non seppe cosa rispondere. Aveva ragione. «Richard non è innamorato di Ermione», sentenziò quindi scuotendo la testa. «Poi sbuffò, elegantemente ma sbuffò, e quello sbuffo era rivolto a lui». «Mi permetto di dissentire», ribatte Gregory. Con sette fratelli non aveva certo dimestichezza su come ci si sottraeva cortesemente a una discussione. «Non può essere innamorato di lei», insiste Lucy con una certa sicurezza. «C'è un'altra donna». «Ma davvero?» disse Gregory senza farsi la minima illusione. «Sì, davvero». «Parla sempre di una giovane che ha incontrato tramite un amico. Mi sono fatta l'idea che sia la sorella di qualcuno. Non ricordo il nome, mi sembra Mary». «Mary, bah!» Aveva intuito che Fensworth fosse un tipo privo di fantasia. «Ergo», continuò Lady Lucinda, «non è innamorato di Ermione». Almeno era tornata a se stessa. Il mondo pareva un po' più stabile con Lucy Abernati che strillava come un terrier. Si era quasi sentito sbilanciato quando l'aveva vista fissare gli alberi con espressione cupa. «Pensatela come volete», disse Gregory con un sospiro altezzoso. «Ma sappiate questo. Vostro fratello si troverà ben presto con il cuore infranto». «Davvero?», lo scherni lei. «Perché siete convinto del vostro successo?» «Perché sono convinto che lui non ne avrà. Non lo conoscete nemmeno. Adesso lo difendete. Un momento fa avete detto che non era interessato. Infatti non lo è», si mordicchiò un labbro. «Però è mio fratello. Se fosse interessato dovrei sostenerlo, non vi pare?» Gregory inarcò un sopracciglio. «Cambiate idea spesso. Lui è un conte e voi...», assunse un'espressione quasi contrita. «Voi no. Diventerete un'ottima matrona dell'alta società», Lucinda si irrigidì. «Come prego? Volete già concedere la vostra amica al miglior offerente? Sarete decisamente esperta per quando avrete una figlia vostra». Lei balzò in piedi con gli occhi scintillanti di rabbia e indignazione. «Avete detto una cosa orribile. Il mio interesse maggiore è sempre stato la felicità di Ermione. E se un conte può renderla felice? Che casualmente è anche mio fratello!» «Magnifico! Adesso avrebbe cercato di accoppiare Ermione con Fensworth. Ben fatto, Gregory, ben fatto davvero!» «Posso renderla felice anch'io!» dichiarò alzandosi a sua volta. «Era vero. L'aveva fatta ridere due volte quella mattina!» «È ovvio!» replicò Lady Lucinda. «E cielo! Forse ci riuscirete se non farete pasticci! Richard è troppo giovane per sposarsi. Ha solo ventidue anni!» Gregory la osservò con espressione curiosa. Adesso parlava come se fosse di nuovo lui il candidato migliore. Che intenzioni aveva, insomma? «E poi!» aggiunse mentre con un gesto spazientito si infilava dietro l'orecchio una ciocca di capelli biondo scuro che il vento le aveva sbattuto sulla faccia. «Non è innamorato di lei, ne sono certa!» Nessuno dei due sembrava avere nulla da aggiungere e così, visto che ormai erano in piedi, Gregory indicò l'edificio e disse «Vogliamo rientrare?» Lei annui e si incamminarono con calma. «Questo non risolve comunque il problema di Mr. Edmonds?» commentò Gregory. Lucy lo guardò con aria divertita. «Che c'è?» le chiese. A quel punto rise apertamente. «Niente!» rispose continuando a sorridere. «Sono davvero colpita dal fatto che non abbiate finto di non ricordare il suo nome. Avrei forse dovuto chiamarlo Mr. Edwards e poi Mr. Ellington e Mr. Edifice e...» Lucy assunse un'espressione maliziosa. «Avresti perso del tutto il mio rispetto, ve lo assicuro.» «Orrore!» commentò lui mettendosi una mano sul cuore. Lei gli lanciò un'occhiata da sopra la spalla. «Un colpo mancato per un soffio.» «Sono un pessimo tiratore», rispose Serafico. «Ma so come schivare una pallottola.» Adesso era curiosa. «Non ho mai conosciuto un uomo che ammettesse di essere un pessimo tiratore.» Gregory scrollò le spalle. «Ci sono cose che non si possono negare. Io sarò sempre il Bridgerton che può essere battuto nel tiro a breve distanza da sua sorella. Quella di cui mi avete parlato?» Tutte quante, in realtà, riconobbe. «Oh!» Lucy corrugò la fronte. Doveva esistere una risposta adatta a una situazione del genere. Non aveva mai sentito un gentiluomo ammettere un proprio limite, ma di certo doveva essere accaduto almeno una volta nel corso della storia. Ebbene, cosa si diceva in un momento simile? Temporeggiò, sforzandosi di farsi venire in mente qualcosa di sensato. Niente da fare. E poi? «Ermione non sa ballare.» Quelle parole le sfuggirono senza che il cervello le avesse dato il permesso. Santo cielo! E quella doveva essere una cosa sensata! Gregory si fermò, voltandosi verso di lei con espressione sorpresa. O forse era più che altro sbigottito. Probabilmente entrambe le cose. Quindi disse l'unica cosa adatta a circostanze simili. «Prego.» Ormai non poteva ritrattare. Quindi ripetè. «Non sa ballare.» «Ecco perché non vuole mai farlo. Non è capace.» Aspettò quindi che si aprisse una voragine nel terreno per poterci saltare dentro. E il fatto che lui la stesse fissando come se fosse impazzita non le era certo d'aiuto. Riuscì a fare un sorrisetto colmando così quell'istante apparentemente infinito prima che Gregory ribattesse. «Deve esserci un motivo per cui me lo dite, no?» Lucy sospirò, un po' innervosita. Non sembrava arrabbiato. Era più che altro curioso. Lei non aveva certo avuto intenzione di denigrare l'amica. Ma quando lui aveva ammesso di non saper sparare, le era sembrato giusto dirgli che lei non sapeva ballare. In fondo aveva senso. Si supponeva che gli uomini sapessero sparare, che le donne sapessero ballare e che le amiche fidate sapessero tenere la bocca chiusa. Evidentemente tutti e tre avevano qualcosa da imparare. «Pensavo che vi avrebbe fatto sentire meglio», disse alla fine, «perché voi non sapete sparare». «Oh, io so sparare», commentò lui. «Quello è facile, è solo che non so colpire il bersaglio». Lucy rise, non riuscì a trattenersi. «Potrei insegnarvi io». Lui girò la testa di scatto. «Oddio, adesso non ditemi che voi sapete sparare». «E anche piuttosto bene», rispose fieramente. Gregory scosse la testa. «Ci mancava solo questa». «È un'abilità ammirevole», protestò lei. «Ne sono certo, ma ci sono già quattro donne nella mia vita in grado di battermi. L'ultima cosa di cui ho bisogno è...» «Oddio, non mi dite che anche Miss Watson è un'eccellente tiratrice». Lucy restò perplessa. «Sapete che non ne sono sicura». «Allora c'è ancora speranza». «Non è strano», murmorò lei. «Che io abbia speranza?» «No, che...» Lucy non riusciva nemmeno a dirlo. Santo cielo, sembrava sciocco persino a lei. «Ah, che non sappiate se Miss Watson sa sparare o meno». «Ecco, aveva indovinato comunque». «Già, ma in fondo perché dovrei?» «Il tiro con la pistola non faceva parte delle materie scolastiche nel collegio di Miss Moss». «Con grande sollievo di tutti i gentiluomini, vi assicuro», osservò con un sorriso appena accennato. «A voi chi lo ha insegnato?» Restò per un attimo a bocca aperta prima di rispondere. «Mio padre». All'inizio pensò che fosse stata la domanda a sorprenderla. Invece era stata la sua risposta. «Santo cielo!» esclamò Gregory. «Ma allora eravate ancora in fasce?» «Non proprio», rispose Lucy, ancora sbalordita dalla propria reazione. Forse dipendeva dal fatto che non pensava spesso a suo padre. Era morto da così tanto tempo che non poteva essere l'argomento di molte conversazioni. «Lui la riteneva un'abilità necessaria», continuò, «anche per le signorine». «Il nostro palazzo è vicino alla costa di Dovere e ci sono sempre stati contrabbandieri. Spesso erano persone conosciute. Perfino al magistrato, ma in fondo il magistrato conosceva tutti». «Probabilmente gli piaceva il brandy francese», murmurò Gregory. Lucy sorrise. «Piaceva anche a mio padre, ma c'erano anche contrabbandieri decisamente pericolosi e poi...» A quel punto si sporse verso di lui. La situazione lo richiedeva, altrimenti che divertimento ci sarebbe stato? «E poi?» Lei incalzò Gregory. Lei abbassò la voce. «Penso ci fossero anche delle spie». «A dove?» «Dieci anni fa». «C'erano di sicuro, ma mi chiedo quanto fosse appropriato armare la popolazione infantile». Lucy scoppiò a ridere. «Credo di avere cominciato a sette anni. Richard ha continuato a farmi esercitare dopo che mio padre è morto». «Suppongo che sia un ottimo tiratore». Lei annui mestamente. «Mi spiace». Ripresero a camminare verso casa. «Allora non lo sfiderò a duello», commentò Gregory distrattamente. «Preferirei che non lo faceste». «Caspita, Lady Lucinda!» disse lui fissandola con aria sorgnona. «Credo che mi abbiate appena dichiarato il vostro affetto». Lei restò a bocca aperta come un pesce. «Io non...» «Cosa vi ha portato a una tale conclusione?» «E perché sentiva le guance paonazze?» «Non sarebbe mai un duello alla pari», commentò lui. «Anche se in realtà non credo che esista un uomo in Inghilterra con cui potrei avere un duello alla pari». Lucy era ancora un po' stordita, ma riuscì a dire «Adesso esagerate». «No», rispose lui con disinvoltura. «Vostro fratello mi pianterebbe di sicuro una pallottola in una spalla, sempre che non volesse puntare al cuore». «Oh, non siate sciocco!» Lui scrollò le spalle. «Comunque, evidentemente il mio benessere vi sta più a cuore di quanto non pensiate». «A me sta a cuore il benessere di chiunque», borbottò lei. «Già», mormorò Gregory. «Penso di sì». Lucy indietreggiò. «Perché mi è sembrata un'offesa?» «Vi assicuro che non intendeva esserlo». Ma alla fine, il suo sguardo sospettoso lo costrinse ad alzare le mani in segno di resa. «Era un complimento», disse. «Ve lo giuro». «Pronunciato di malavoglia?» «Niente affatto». Guardandola non riuscì a trattenere un sorriso. «State ridendo di me?» «No!» ribadì. Poi, ovviamente, gli sfuggì una risata. «Scusate, adesso sì». «Potreste almeno tentare di essere gentile e dire che stavate ridendo con me?» «Potrei», rispose continuando a ridere e il suo sguardo si fece diabolico. «Ma sarebbe una menzogna». Per poco Lucy non gli diede uno schiaffo su una spalla. «Oh, siete terribile!» «La rovina dell'esistenza dei miei fratelli, garantito!» «Davvero?» Lucy non era mai stata la rovina di nessuno. E le sembrò una possibilità interessante. «Come mai?» «Oh, le solite cose!» «Devo sistemarmi, trovare uno scopo nella vita!» «Sposarvi?» «Anche quello!» «È il motivo per cui siete così innamorato di Ermione?» Lui tacque un istante, ma Lucy percepì l'esitazione. «No!» disse. «È tutt'altra cosa!» «Certo!» Si affrettò ad aggiungere, sentendosi una sciocca per averglielo chiesto. Le aveva già spiegato tutto la sera prima, riguardo all'amore che arrivava in bassa e sul fatto di non avere scelta. Non desiderava Ermione per compiacere suo fratello, ma perché non poteva non desiderarla. Questo la fece sentire un po' più sola. «Siamo arrivati!» le disse indicando la porta del salotto. Lucy non se n'era nemmeno accorta. «Già, certo!» Guardò la porta, quindi guardò lui e si chiese perché si sentisse così in imbarazzo adesso che lo doveva salutare. «Grazie per la compagnia! Il piacere è stato mio!» Lucy si incamminò verso l'interno e poi si voltò di nuovo verso di lui. «Qualcosa non va?» le chiese Gregory aggrottando la fronte. «No, ma vi devo le mie scuse. Ho rovinato i vostri piani. Avete detto che vi piace andare al lago quando dovete riflettere e non siete riusciti ad arrivarci.» Lui la fissò con espressione curiosa e con la testa lievemente inclinata di lato e i suoi occhi. «Oh, se Lucy avesse potuto descrivere ciò che vide!» Perché non capiva, non capiva come mai si ritrovò a inclinare la testa come aveva fatto lui, come mai quel momento le apparisse sempre più lungo, tanto che sarebbe potuto durare una vita intera. «Non volevate un po' di tempo per voi?» gli domandò in un sussurro. Gregory scosse lentamente la testa. «Sì», ammise, sembrava essersene reso conto solo in quel momento. «Sì», ripetè. «Ma adesso non più!» Si guardarono e all'improvviso Lucy capì. «Non sa perché», pensò. «Mr. Bridgerton non sapeva perché non voleva più stare da solo e lei non sapeva perché questo fosse così importante». «I'll be fucked up if you can't be right» «Come la prima volta campiamo forte in macchina, spegnila, ci sta tornando l'alba». «Come l'ultima volta tu bella e così stonza, che quando mi guardi mi sento una bomba». «Non sapeva che stonza,